La nuova visione di un luogo, il supermercato in cui offrire non solo prodotti ma essenzialmente servizi al consumatore, oggi sempre più attento alla spesa. Non più dunque il posto dove comprare e andare via, piuttosto uno spazio dove socializzare e provare ad assaporare il tempo senza andare sempre di corsa. Nasce a Terlizzi, il gruppo Maiora potenzia la propria presenza in Puglia con l'apertura di un inter-spar progettato per essere più accogliente e familiare dove oltre a scegliere e acquistare è possibile anche condividere gusti e sapori direttamente a tavola, avere la possibilità di ricevere informazioni sulle proprietà dei prodotti. Soluzioni che vanno verso la comodità, verso la facilità di fare la spesa, verso la possibilità di fare una spesa informata in quanto per ogni prodotto cerchiamo di fornire il massimo delle informazioni relative alla filiera da cui proviene, alle modalità di consumo, ai benefici per l'organismo. Il consumatore è molto più informato che in passato e noi siamo contenti di servire un consumatore informato perché finalmente possiamo far valere la nostra differenza rispetto a catene in cui il prodotto che viene offerto è più anonimo. Noi siamo alla ricerca di un prodotto di maggiore qualità, qualità che significa non solo qualità intrinseca del prodotto ma anche qualità della filiera che lo produce, quindi una filiera consapevole che si allontana da concetti di sfruttamento ma che si allontana, che sia anche vicino al territorio. Abbiamo molti fornitori che sono dell'area norbarese e di Terlizzi stesse.